Oggi a San Giovanni su Ergione, sud Sardegna, si è verificato un tragico incidente intorno alle 10.30, in cui una copia di turisti svizzeri di 67 anni e 63 anni hanno perso la vita in seguito alla collisione tra una Ferrari noleggiata per un raduno di auto sportive, noto come la Sardegna, Supercar Experience e un camper con a bordo una coppia alto tesina di 62-61 anni, residenti a selva di Val Gardena. L'impatto ha causato la morte dei turisti svizzeri che sono rimasti carbonizzati nell'incidente, inoltre altre 4 persone sono rimaste ferite nel tragico sinistro, le autorità locali e i carabinieri stanno ancora investigando le circostanze esatte. La coppia Svizzera era partita dal Forte Village per partecipare al raduno automobilistico, quando l'incidente si è verificato durante un sorpasso.